Era scontata ma la notizia è ora ufficiale. È stato costituito oggi il gruppo di Futura Libertà in Consiglio regionale. Giovedì ci sarà la conferenza stampa di presentazione alla presenza del Vice Ministro alle attività produttive Adolfo Urso. Come a livello nazionale anche a livello locale il movimento non sarà in contrapposizione alla coalizione di governo della quale sarà parte integrante insieme a PDL ed MPA. L'annuncio è arrivato dal finiano Emilio Nasuti, ex PDL, dopo aver consegnato presso la presidenza del Consiglio regionale i documenti per la costituzione del gruppo. Come ha sottolineato Nasuti i consiglieri sono due. Oltre a lui il Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle attività produttive Alfredo Costiglione che si è dimesso dal ruolo di Vice Coordinatore Comunale di Pescara del PDL ma sono febbrili le trattative in queste ora perché il gruppo potrebbe anche essere più numeroso. Lo stesso Nasuti, Presidente della Commissione bilancio conferma. Saremo leali con il Presidente Chiodi come lo siamo stati in questo anno e mezzo di lavoro ma faremo da pungolo per mantenere gli impegni presi con gli elettori. Per il momento il gruppo è composto da Nasuti e Castiglione ma a breve ci saranno ingressi. Tra i nomi che circolano ci sono quelli dei consiglieri del PDL Berardo Rabuffo, Luigi De Fanis e Antonio Prospero. Anche Daniela Stati potrebbe essere della partita. Nasuti dovrebbe diventare capogruppo di Futura Libertà quindi per incompatibilità dovrebbe abbandonare la presidenza della Commissione bilancio. Il gruppo del PDL al momento perde due pezzi visto che i consiglieri Nasuti e Castiglione hanno aderito a Futura Libertà ma ne riacquisterà uno. Si tratta dell'ex Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Tagliente. In questa legislatura eletto con il PDL è poi passato nelle file di Rialzati Abruzzo. Con il ritorno di Tagliente il gruppo del PDL sarà composto da 23 consiglieri. Grazie. Grazie.